Musica Linea diretta, una buona giornata a tutti voi telespettatori ben ritrovati nei nostri studi nel consueto spazio di informazione e approfondimento Ospite oggi è Andrea Leverato, presidente della Multi Utility Etra Buongiorno intanto e benvenuto, ben ritrovato Voglio precisare ai nostri telespettatori che ci siamo tolti la mascherina Tengo proprio a sottolineare questa cosa perché siamo ben distanziati Di conseguenza non c'è alcun pericolo, infatti vedete la distanza tra me e il presidente Etra Quindi abbiamo deciso di toglierci la mascherina per essere anche più chiari nell'esposizione Di quanto andrà detto in questa puntata di Etra Etra, insomma, sappiamo benissimo, conosciamo benissimo questa Multi Utility Che interessa gran parte del Veneto, possiamo dire, perché sono tantissime le province interessate C'è il Trevigiano, c'è Padova, Vicenza, quindi insomma queste tre province Tantissimi comuni che sono coinvolti Il titolo della puntata di oggi è Etra, obiettivi raggiunti Perché si è concluso un anno, un anno che dal punto di vista anche proprio dell'utile Per voi è stato importantissimo E se ne preannuncia un altro che sarà altrettanto presidente Sì, è stato il 2020 un anno molto importante Importante e anche complicato perché anche noi abbiamo dovuto gestire una situazione difficile Come quella determinata dal Covid-19 Però non ci siamo scoraggiati Abbiamo voluto dare una mano al nostro territorio Lo abbiamo fatto mettendo a disposizione parte degli utili raggiunti nell'esercizio 2020 Sono stati 3 milioni di euro la cifra che è stata messa a disposizione dei comuni soci Quindi a disposizione dei sindaci E i sindaci hanno ben gradito questo gesto importante e impegnativo da parte della società E questi soldi verranno destinati per aiutare quelle situazioni maggiormente in difficoltà Quindi posso pensare alle famiglie o anche alle partite IVA Quindi a quegli esercizi che sono rimasti chiusi durante il lockdown Durante questo periodo di difficoltà Ecco, si diceva appunto un aiuto, una presenza costante sul territorio, la vostra Anche sottolineata da questa grande solidarietà che viene portata ai sindaci Nello specifico perché sappiamo benissimo che i sindaci hanno il polso della situazione Quindi conoscono bene quello che succede nel loro comune, nel loro territorio Infatti i sindaci sono in prima linea Loro hanno una grande responsabilità Stanno gestendo con grande coraggio e grande volontà questa situazione difficile E' stato appunto per questo che l'azienda ha voluto dare loro una mano Un sottoprofilo economico per venire incontro alle varie esigenze Ecco, i nostri sindaci soci sono una settantina E come diceva bene all'inizio del collegamento Un territorio che va dall'alto piano di Asiago e si estende giù giù Fino alla cintura di Padua, quindi fino ai Colli Ugani Sono 70, situazioni tra loro diverse E i sindaci sapranno sicuramente utilizzare questi soldi Per gestire quelle situazioni che all'interno dei propri territori Ecco, hanno patito le difficoltà della pandemia ETA ha fatto un grande sforzo, ma questo sforzo determina anche Ed è la cartina tornasole, della vicinanza di un'azienda a un territorio e ai propri sindaci Tra l'altro, vicinanza al territorio, ai sindaci, alle famiglie, alle attività che magari stanno soffrendo Ma anche all'interno dell'azienda stessa un lavoro di squadra Che ha portato al raddoppiamento dell'utile nel 2020 e si punta a fare altrettanto per il 2021 Sì, è stato importante lo sforzo che l'azienda ha fatto sugli investimenti Investimenti significa quindi realizzare e spendere sul territorio Creare infrastrutture, noi ci occupiamo di idrico e di ambiente Quindi significa occuparci di queste due linee di business Gli investimenti nel corso del 2020 sono raddoppiati rispetto al 2019 Sono diventati 56 milioni e l'obiettivo per il 2021 sarà di raddoppiarli ulteriormente Quindi arrivare a 110 milioni di euro di investimento Significa questo creare indotto, aiutare il tessuto economico del nostro territorio Aiutare le imprese che operano nel nostro territorio Ecco, quando si parla di lavoro di squadra all'interno In questo periodo così difficile, legato appunto, sconosciamo benissimo per causa pandemia Come è stato strutturato il lavoro all'interno dell'azienda, all'interno di Etra? Perché molte attività, molte aziende hanno optato per quello che viene chiamato smart working, lavoro da casa Voi l'avete utilizzato, l'avete adottato e come è andata? Cioè spieghiamo un pochino anche questo Sì, la nostra azienda intanto va detto non ha messo in cassa integrazione nessun lavoratore Questo è un risultato importante, quindi tutti i nostri lavoratori hanno avuto lo stipendio pieno Ci siamo ovviamente modulati in maniera diversa per venire incontro alle restrizioni determinate dalla pandemia Infatti dal primo lockdown, quello del marzo 2020 Siamo riusciti nel giro di 15 giorni a porre in smart working l'intera popolazione impiegatizia Che è di circa 350-380 lavoratori E questo l'abbiamo fatto con tutte le dotazioni e le strumentazioni necessarie Quindi il notebook, il collegamento in linea, il telefonino, tutto quello che è necessario per poter lavorare da casa E la sorpresa che abbiamo avuto anche nel corso del 2020 è stato che la produttività dei nostri lavoratori Anziché diminuire o rimanere costante è addirittura aumentata di qualche punto Ecco, questo è un dato importante e il mio ringraziamento va proprio ai lavoratori dietro Che hanno saputo raccogliere la sfida e portare a casa anche dei risultati importanti per il bene dell'azienda E di un territorio che salviamo Lei lo consiglia quindi alle aziende? Perché molte aziende molte volte sono spaventate dal fatto di pensare il lavoratore a casa Come se stando a casa e pur avendo un obiettivo preciso magari non riuscisse a portare all'azienda quanto invece aspetterebbe Voi siete la conferma, avete avuto toccato con mano che non è così Che la gente insomma si pone un obiettivo e arriva a portarlo a termine È una questione di organizzazione Se il lavoro viene organizzato anche per supportare questa modalità di lavoro Potrà dare anche dei risultati interessanti Infatti il nostro obiettivo è quello di consolidare questa modalità di lavoro anche per il futuro Indipendentemente dalla pandemia Ovviamente con degli accordi sindacali perché bisognerà coinvolgere anche le parti sociali Però questa potrebbe diventare una modalità consolidante nel tempo Anche perché potrebbe venire incontro anche, io parlo soprattutto magari dalla parte femminile Donne con figli o donne con genitori, anziani e quant'altro Che pur riuscendo a stare nel loro ambito familiare Quindi seguire i ragazzini, le ragazzine o i genitori Riescono anche a portare a casa il lavoro A portarlo a termine in maniera corretta e tutto quanto Infatti lo smart working consente anche di dare al lavoratore, alla lavoratrice Quella necessaria flessibilità per riuscire a conciliare le esigenze familiari con le esigenze lavorative Perché non c'è bisogno di timbrare un cartellino, c'è un obiettivo da raggiungere C'è l'obiettivo Voi l'avete posto settimanalmente o giornalmente? Ci sono obiettivi giornalieri e obiettivi settimanali Quindi in ogni caso tutto è stato svolto nel migliore dei modi Bene, oltre a questo c'è un'attenta campagna di tamponi Che è stata fatta all'interno dell'azienda I suoi dipendenti mensilmente sottoposti a tamponi E? Sì, è stata una sfida importante Noi abbiamo gran parte della nostra popolazione lavorativa Quegli operativi che operano sul territorio Pensiamo alle squadre che fanno la manutenzione dell'idrico Ma anche a tutte quelle squadre che quotidianamente fanno la raccolta dei rifiuti Ecco, dovevamo assicurare condizioni di lavoro in sicurezza E questo l'abbiamo fatto sia utilizzando e chiedendo ai nostri lavoratori di collaborare Per adottare tutte quelle misure di prevenzione Quindi dalla mascherina al lavaggio delle mani, i disinfettanti Ecco, la sanificazione dei veicoli dove operano La sanificazione anche degli ambienti di lavoro quotidiana Con la duplice intervento da parte delle imprese di pulizie Ma l'abbiamo fatto anche monitorando il lavoratore con dei tamponi mensili Infatti è da giugno che facciamo mensilmente questo tipo di intervento E posso dire che i risultati sono veramente incoraggianti L'azienda ha oggi circa 5-6 positivi al coronavirus Su una popolazione di mille dipendenti Quindi capisce che siamo anche in una posizione Decisamente sotto la media regionale e nazionale Questo è anche il risultato di un grande impegno che l'azienda ha voluto dare Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro Certo, parlando di sicurezza sul lavoro Parlando anche di tutti quegli elementi che in questi giorni devono essere utilizzati Si comincia proprio dalla mascherina Poi c'è stato il periodo, soprattutto nella prima fase In cui era richiesto anche l'uso obbligatorio dei guanti Ti ricordo, oltre all'igienizzazione delle mani Guanti, mascherine e quant'altro Sono da considerare, visto che voi vi occupate anche di tutto quello che riguarda la raccolta dei rifiuti Sono un po' il punto dolente Perché abbiamo visto molte volte, ci hanno segnalato anche i nostri telespettatori Mascherine buttate a terra, guanti buttati a terra Basta davvero poco Dove vanno buttati, diciamolo ancora una volta, guanti, mascherine? Questi dispositivi dove vanno gettati? La pandemia tra i vari problemi ha creato anche delle nuove tipologie di rifiuto Appunto le mascherine e i guanti monouso Sia mascherine che guanti monouso vanno gettati nel bidone del secco È importante il corretto conferimento È importante non abbandonare questo tipo di rifiuti Perché sono dei rifiuti che possono essere contaminati Perché ovviamente sono degli elementi di protezione Quindi vanno correttamente smaltiti all'interno dei contenitori del secco È una raccomandazione importante perché vedo tante volte Vicino a certi punti di vendita, tipo i supermercati Abbandoni in maniera diffusa È importante sia per il decoro urbanistico delle nostre aree Ma anche e soprattutto per questioni igienico-sanitarie Conferire correttamente questi prodotti E parlando a questo punto allora di tutto quello che è il riciclo dei rifiuti E quindi che ha portato tra l'altro anche la nostra regione A essere tra le prime in Italia Per i buoni metodi, i buoni usi che i cittadini fortunatamente fanno C'è proprio un'adozione anche proprio a livello mentale Di questo riciclare carta, metallo, plastica E sta portando a cosa nel territorio di sua competenza? Ha detto bene La regione Veneto è una regione virtuosa Perché i propri cittadini, la popolazione veneta È particolarmente sensibile al tema del riciclo e del corretto conferimento Pensi che nel nostro territorio raggiungiamo picchi di differenziata Intorno all'80% Significa che l'80% del rifiuto è riciclabile E il 20% invece viene poi portato in incenerimento Possiamo fare di più Possiamo fare di più Possiamo pensare anche a raggiungere la soglia dell'85% Oltre direi che lo vedo difficile Però se lei considera che la media nazionale è intorno al 60% Vuol dire che questa è veramente una regione virtuosa I nostri territori rispondono bene Sì anche perché adesso poi diventa Quando si va in giro per l'Italia E magari non si trovano i cassonetti Quelli adatti per buttare la plastica da una parte Il metallo dall'altra, il vetro e quant'altro È strano da parte nostra Trovarci magari a buttare tutto nello stesso bidone C'è creata questa mentalità proprio nelle persone Che è importante pensando che serve all'ambiente Certo, riciclare significa dare una mano all'ambiente Significa risparmiare materie prime E riuscire quindi a rimettere Quello che si pensava avesse finito un ciclo di vita Rimetterlo invece in un ambito industriale È importante perché questo non è altro che l'economia circolare Cioè da un qualche cosa che si pensava avesse terminato il ciclo di vita Fallo invece rinascere e diventa invece ricchezza E questa ricchezza peraltro, lo ricordo Serve per andare a ridurre anche le nostre bollette Perché il rifiuto riciclabile noi lo vendiamo E quel ricavato va a calmierare la tariffa dei rifiuti Quindi insomma è anche un vantaggio per gli utenti Per i cittadini questo Presidente, obiettivi raggiunti nel 2020 È vero, abbiamo sentito Per il 2021 A parte l'utile che si diceva Si punta al raddoppio Che cosa volete raggiungere? Cosa c'è in mente adesso? E su cosa volete focalizzare la vostra attenzione Per questo 2021? Il 2021 sarà un anno di coinvolgimento Maggiore dei nostri soci Quindi dei sindaci Perché l'obiettivo è quello di redigere Il nuovo piano industriale Quindi riuscire a individuare le linee strategiche Di sviluppo dell'azienda Da qui ai prossimi anni Un'azienda che ci tengo a dire È tra le prime dieci aziende a livello nazionale Quello è diventato sia per la mole di investimenti Che per anche gli indici di solidità Vogliamo essere quindi un'azienda competitiva Un'azienda fiore all'occhiello del nostro Veneto È un'azienda che voglia anche investire di più L'obiettivo appunto di 110 milioni di euro Ne è la dimostrazione Serve coinvolgimento quei sindaci Condivisione degli obiettivi Perché questo è un territorio Che ricordiamoci è gestito da Etra Ma è il territorio dei nostri sindaci Ecco le difficoltà maggiori Che incontrate voi? Proprio anche nel rapporto con il territorio Quali sono? Grazie Grazie